Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi un gameplay speciale con un ospite speciale, ovvero Pookie Pookie, con la quale ci siamo cimentati in una co-op su un gioco divertentissimo con un gameplay semplice ma avvincente, pieno di sorprese ma soprattutto tante tante risate. E con sommo piacere che vi presento la prima co-op su Overcooked 2. Buona visione! No, ho sbagliato, scusa, ho riprenduto lo stesso tasto di prima. Ok. Mamma mia, sei troppo l'eseru. Esatto. Basta, non voglio vedere più. Usci, usci. Cos'è usci? Che lingua? Sarebbe uscire. Allora, dove dobbiamo andare qua? 5 e 4. Mi fa biese, è questo. Esatto. Ah, allora. Madonna, già vedo portali qua. Panico totale, nuova ricetta. Con le uova? Dobbiamo mettere tutto nel frullatore e poi fare le crepes. Sembra troppo semplice. Questa è un puzzo. Ma farina, usci uova, farina e poi rendi tutto più goloso con il cioccolato. Ok, dove sono io? Ma la farina e il cioccolato sono in basso. Va bene, io ho uovo e uovo. Farina. Cioccolato. Farina. Ma il cioccolato lo devo tagliare? No. Sì. Sì. Cioccolato si taglia. Ok, una farina e il cioccolato. Permesso. Dov'è? Qua. Aiuto! Metto qua. Cioccolato? Ah, è perso lo cioccolato. Sei fermo! Cosa ho preso? Cosa ci va? Vai, vai, vai. Ma c'è uno specchio. Ma cosa sono quelli specchi? No. Cosa si è? Sono qua, sono qui. Sono caduto. Cos'è Harry Potter? Sto impazzendo. Cosa sto vedendo? Ah, ok. Se spunto di qua, spunto di qua. Ti passo un po' di riso. Adesso spunto di qua e vado di là. No. What the hell? Ah, ok, ho capito, ho capito. Guarda, adesso spunto nel cioccolato. Dopo che, dopo che lo... Ah, ma non c'è un po' di riso. Seria, cialato. To? Non c'è un po' di Italia. Lo so, però se... Ah, sì, lo so, però devo andare di qua. Ecco. Ok, cioccolato. 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 E cioccolato. E quello sta esplodendo? Un cioccolato. Ok, i piatti sono sopra. I piatti non sono. Quella vinta. Ah, mamma. Ma do, panico. Qua, te l'ho portato io. Dove vai? Poi, dove sono le ciotole? Qua? Cioccolato. E poi dopo il cioccolato cosa vuole? L'uovo. E dove il cioccolato lo devo trasferire? L'uovo. La, di a destra. No, è il cuore. Cioccolato, uovo. E' scomparsa la scala mentre camminavo. Farina, lancia. Ok. Dove sono io? Lancio la farina. Ok. Che ne so, se non lo sai tu. Questo cuocere. Ma sono veramente dei fetenti. Cuocere. Che poi sarebbe cuocere. Fetenti brutti. Questo mettere qua e qua. Ok, ci siamo. Ci siamo. Siamo a cavallo. Tagliami questo. Non è facile. Mi sapete tutta la farina? No. Ok. Ok, mi serve un piatto. Piatto ricco, micifico. Questo è da cucinare. Quello lo consegni. Poi mi serve un altro di questo. Un cioccolate. Una farina. Cioccolata. Una farina. Uova. Uova. E farina. Questo lo prendo, lo sposto di qua. Vado sopra e taglio i piatti. Taglio i piatti? Ok. La mucca. Il piatto. Nel pane il consegno, con il permesso. Vivi. Consegno. No. E ti ti muove. Esatto. Oh, sì, sì. Ok. No. Ma è successo pure la stessa cosa. Ma quel paese. Allora, prendegli il piatto. Queste omelette erano molto facili. Non è un omelette, è un pancake. Eh, queste caffi di cose. Permesso? Comunque queste siano. Eh, è sbruciato qua. Ma come serve un piatto? Ce l'ho il piatto qua. Qua è? Oh. Ma cagare. Ah, non c'è stato capito niente. E voi vado. Hai quit. Ok. Una. La farina. Ti ho messo il cioccolato? Che la farina. Qua. Qua. Ah, ah, ah. Lancia la farina. Perché non c'è il cioccolato quando serve so... Cerve, sarina e cioccolato. Serve tutto. Ah, sì, ho capito. No, c'è anche tu uovo. Ah, ok. Vabbè, sei tu che segui gli ordini. Io faccio tutto. Sei tu che dimenticare le tue cose. To, uovo. Spero che prenda un po' di farina, va? Panico. Ecco, il nostro non ci si va a cagare, va. Allora. Proviamo la calma a zero di nuovo. Aspetta, qua ce ne sono troppe farine. Questo l'hanno dovuto. Dove sono io in tutto ciò? Penso, non ci sono, quindi credo che andrò qua. Un piatto, ce l'ho io. Premesso, permesso, piatto. Mi hai lasciato... Mi hai lasciato praticamente il passo. Ok, questo è un piatto, via. Via, con segnale, con segnale. Questo è un piatto? Speriamo. No, a me non piaccia. Ok, via. Qua è già pronto. Dami i piatti sporchi, dove sono? Vuole tanto saperlo. Dove sono i piatti sporchi? Sono lì. Questo è già cotto? Sì. Quello là, quello là. Dov'è la padella? Ah, permesso? Mini. 1, 2. 1, 2. Ecco. 3. Piatti. Piatto. Arriva. Dov'è? Qua. 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 Tempo scaduto. Quando io ho 400, beh, dai, oh, non siamo andati malissimo, 4 e 20 su 4 e 60. Merito tuo, io ho fatto schifo, proprio schifo, tutto schifo. Non è vero, non direi bugiardaggini. È vero. È vero. Senti, Mimì, allora saltarebbe, eh, salta, ammazza e spara, vai, vai. Io all'inizio ho fatto quattro. Arrivedi, allora facciamo, io ti prendo, tu prendi farina, io metto le uova che servono e prendo un cioccolato ma sono caduto. Tutto chiaro. Ok, prendo un cioccolato e sono ricaduto. Ma allora. Mi slitta il joypad. Devi tagliarlo il cioccolato. Ne prendo un altro per sicurezza. Ma ce ne serve solo uno. Lo so, ma dopo ce ne ordineranno altri 5. Mi butto un po' di farina che sicuramente dopo ci serve. Ah no, mi vediamo, allora. Ok, questo è finito, permesso, grazie, per i meson. Per i meson. Ok, questo non serve, via. No! Vabbè, sono un pirla, niente, non ce la fa. Che fai, lo prendi e lo rimetti per lì? Ok, questo è finito. Senti, allora. Ok. Cosa stiamo aspettando? Io metto un po' di roba da cucinare, cioè. Uno e due. Ah, abbiamo il cioccolato, vedi che c'era il cioccolato. Aspetta che ne vado a prendere uno. No, non era di qua. Era all'altra parte, mannaggia. Vado io. Vabbè, ci andiamo di qua. Ci vado di qua. Mi ha chiuso la porta, mi faccio. E lavo i piatti, lavo i piatti, lavo i piatti. Io prendo un piatto. Prendo le cose, prendo le cose. Cosa sta esplodendo? Non li vedo, io prendo questo. Aiuto! Dove è la padella, permesso? Non ce l'ho fatta. Aia! Mi sento picchiato e umiliato. Allora. Ma dai, che ti sta aiutando. Aia! Farina e un uovo. Prendo questo, lo tolgo. Salgo, tu cadi. Sapevo che cadevi. Tagli un altro piatto. Ce l'ho con sto taglio. Ma sarete tu, l'umiliato? Allora. Torta. La consegno. Permesso. Mi rischiava la morte tutte le volte. Hai notato che ti piacciono i teleport a te? Sì, sto cercando. Questo lo metto a cuocere. Poi faccio uovo e farina, o farina e uovo. Ah, aspetta. Ok. Mi sa che ho buttato una cosa che non dovevo buttare. No! Perché c'è la spazzatura vicino. Vabbè, la rifaccio subito. Vabbè, attento. Sarò più fortunato. Vado a tagliare due cioccolate che ci servono i cioccolati. Vabbè, le metto già subito. Così siamo a posto. Allora, uno. Ok. Uno. Questo lo posso cuocere. E in questo non ho rotto le scatole, sto coso. Ok. Mi servono i piatti. Lo so, arrivo. Ah, ok. Un po' da farà. Siamo così. Ok, uno è andato. Ma porco Giuda, lo butto sempre con sto cestino vicino. Sono un piccio. Ho rovinato due piatti. Un piccio. Ok. Mi potete venire a dirti. Ho rovinato due piatti, o? È una bella non ti preoccupare. È, ma erano due piatti belli, con il cioccolato. Non ti preoccupare. Erano torte stupefacenti. Non ti preoccupare. Cioè, nel senso che ti drogano stupefacenti come stupefacce. Allora. Un piatto ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Lo consegno. Via. Eh. Riso. Che non è il riso. Ma è farina. Ok. Eccolo. Eccolo. Madonna mia, che nato! Una cosa sterribile è stato. Ok. Eh. Piatto ricco micifico. C'è il cioccolato. Ce l'ho già una cioccolato. Ce l'ho tutto pronto, praticamente. Ok. Allora, quali miei piatti? Questo qua, questo qua. Ok. Yeah. Faccio questo. Ti metto qua. Questo è anche pronto. Questo è quasi pronto. Mi serve del farino. Buon appetito. No, sto a ripieno. Poi c'ho altri piatti pronti. Ah, cosa è successo? Io vado a lavare i piatti. Non ci credo. Uno. Andiamo a se riusciamo a consegnare anche questo. Davvero. Assurdo. 805 non è male comunque. Abbiamo spaccato, abbiamo spaccato. Sì, di brutto, di brutto. Eh, a me mi è successa una cosa che a me mi è scomparsa la scala sotto i piedi, praticamente sotto il culo, e sono riuscito con un balzo felino a riuscire a... A me è successo che ero quello in mezzo, e invece di portarmi avanti, mi ha portato indietro. Cioè, perché si stava girando nel frattempo, è successa una cosa assurda, e quindi mi ha portato... Cioè, ti è rispawnato mille volte, praticamente. Ma il... Sì! Ma il Kevin dall'altra parte l'abbiamo fatto, tre stelle, sì. L'abbiamo fatto ieri. Sì! Ah, bene, bene, bene. Andiamo nella magia di Harry Potter qua. E basta magia, ma è successo. Ok, allora, pasta con la carne e pasta a sugo. E mo? Perché queste piattaforme non mi ispirano tantissimo? Non so come si faccia. Cosa devo fare? Non lo so, ma credo che si muoveranno. Ho questa vana impressione. Eh, ma ho capito. Si muoveranno come? Ah, grazie. Un fungo... Io ti faccio molto più. Eh, no, 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 non lo sto capendo. A meno che le dobbiamo spostare noi? No. Non mi pare, non c'è più così. Eh, ca... Cado... Ah, ciao! Ah! Eri tu che me la spostavi. Grazie. Fungo. Eh, ma? A destra, di qua che taglio. Grazie. Siamo nel... Ok, lascia... Ma cosa, ma è meglio che la metto qua? Esatto. Esatto. Grazie. E adesso mi devi muoverete? E dove devo andare? Qua? Toh. Basta. Non sapevo io. Eh, vabbè, panico. Vabbè, abbiamo capito. Non ho capito che devo metterli in mezzo. Non capisco perché non lo ha messo alla di... Eh, scusa, è stato messo dall'inizio, ma ho finito, no? Eh, non lo so. Adesso, aspetta che te lo sposto, vediamo. Eh, no, perché... Io te... Sì, la do... Se te la metto qua, tipo... Ah! E poi devi andare anche giù tu, capisci? Sì. No, tu devi consegnare. Esatto. Solo tu devi consegnare il suo video. E quindi... Eh, cammina però, vediamo. E quindi... Quindi ricominciamo. Lo so. Sì. 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 E quindi... E quindi... E quindi cammina. Ok. Allora, ti sposto la tua... E te la metto già qua. Che tanto a te non ti interessa. Ok, benissimo. Poi. E quindi? Adesso io ti faccio la carne. Io faccio carne. Tu dammi un fungo. Brava. Ok. E però... Taglio un altro fungo. Tanti l'altra carne ce l'ho. Però qua l'ancio è... è ostico eh. Ma sì, sì. Tanti ce l'ho i funghi e carne. Sono pieno di roba io. Ok. Ok. Uno. Due. Ti voglio? Ho capito... Ah, ok. Ho capito come passarci i piatti. Io li metto sulla piatta. Sì, tu li metti presente al centro. Esatto. E poi me li passi. Io nel frattempo cuocio anche questo. Ma non posso... E però mi riesco a stare. Eh sì, lo so. Ma non ho più spazio. Ah, scusi. Stavo guardando al mio lato. Dove devo andare qua? Ok. Adesso spostarmi. Così. Ok, spostami tu. Dai no, devi spostarmi prima te. Ah, ma do il panico. Ok. Sì, è più totale. Ok, adesso posso farlo con te. Dove devi andare? Dai, dai, dai. Prendi i piatti, prendi i piatti. Più sopra. Un altro. Guarda, ok. Ah, non ci arrivo. Perché? Perché non c'è. Ok, uno. Ma come faccio? Vedi? Vai. Ok. Niente, se mi... Uno, consegni un piatto. Ok, adesso? E adesso ok, mettimelo al centro qua, no? Vai, vai, ok, va bene. Ma cosa cappe rosso vedendo? Nella vita proprio. Ah, i funghi ce li hai abbastanza. Pixel. Ah, i piatti spacchi li lavo e fa tempo che fa la pasta. Allora. Quindi, questa me la prendo e la metto qua. Questo me la prendo e la metto qua. Quando vuoi puoi girarmi. Puoi girarmi, anzi. E puoi rispostarmi. Ok. Ma va bene. Qua è meglio. Ah, no, ti devo rispostare di nuovo. Che cosa è successo? Eh, se non mi sposti tu... Ah, scusa qua. Vabbè, me la puoi spostare lo stesso. Ma, ma, ma... Me la puoi spostare lo stesso, anche se io non sono sopra. Ecco, bravo, me la metti lì? Secondo me questo è il miglior spot. Ok, va bene. Ok. Tu sei se ferma lì, ok. Un funghi ce ne hai, sì. La mia mi serve al centro, vicino al tagliere. Esatto, là. Perfetto. Un funghi ce ne hai, sì? Sì, sì, a bizzeffe. Ok. Benissimo. Uno, due. Come ingredienti ne ho tantissimi, quello non è un problema. Ma porca miseria, ciao. Ma funziona, saluta, no? E due. Allora, questo. Spostiamo. Questo va qua. Questo va qua. Questo. Lo sbranderlo qui. Ci sei? Sbranderlo? Sì, vai, vai, vai. Oh. Poi mi passi i piatti, eh. Mettimi la pedana lì. Ok. Questo. Questo. Ah. È qualcosa del genere. Ah. Ok. Abbiamo fatto cacca. Abbiamo fatto cacca. Ok. Che hai fatto? Ce l'abbiamo. No, ho detto abbiamo. Ah, ok. Ok. Allora. La tua pedana viene messa al centro qua. E la mia pure. Esatto, vai. Allora. Che bello. Mi taglio una carne che mi serve. E un pomodoro. Ti va in ginta e montagna. Tu mi passi un fungo a vuolo. Esatto. Passi a... Sì, sì. Butta tutti i funghi. Brava. Eh. Se si riesco. Esatto. Si va in ginta e montagna. Che io faccio il massacro dei funghi. Uno. È un nuovo film. Esatto. Serial killer. Ok. Dunque. Ok. Che ti metto qua. To. Vai. La risposta... La tua te la riporto là. Così già puoi fare tutto il resto. Basta, basta, basta. Te ne puoi andare. Puoi fare altro. C'è la pedana già pronta tu. Ok. Meno male che ho salvato il piatto. Guarda. Bello questo. Funghi e acido. Preparati la pasta. Un pomodoro. E... Basta? Eh no. Sì, basta. E mi sposti la pedana, però. Sì. Dove la vuoi? Ah, sempre lì al tagliere. Ok. Uno qua. Questo va qua. Questo è già pronto. E taglio lo fungio. Poi vado qui. Lo fungio. Vado qui. Slavano questo. Poi ci vuole uno di questo. No. Questo lo mettiamo qua. Questo lo spostiamo di qua. E questo... Ma si può giocare così? Ah, aspetta. Questo qua facciamo così. Aspetta. Questo qua. Questo va qua. E io sono pronto. Vai. Ok. Poi... Non c'è bisogno che stai sulla pedana. Bello quel piatto. L'ho visto, eh. L'ho visto. È sposta la mia. Ah, non ci arrivo. Non ci arrivo. Ah, mamma. Basta, basta, basta. Vai, vai, vai. Cuscina, cucina. La mia pasta. Cuscina, cucina. Ah, mi risposto. Ah, scusa. C'ha ragione. Ho perso la pasta. Spostami, la pedana. Ok. Oh, mio. Ah, ma... 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 Allora, questo con la carne. Questo con i funghi. Ok. Ho visto qualcosa muoversi. Oh, niente! Niente! C'è tipo... Non so niente, non so niente. C'è tipo... Voglio vederti morire. Non è successo niente. Sto facendo troppi funghi e pochi pomodori. Che senso. Perché devo cuocere un po' di pomodori, pure. Eh, che... Eh... Ok. Niente. Ci dobbiamo coordinare meglio. Però abbiamo fatto un po' meglio di prima. 2,64. Prima abbiamo fatto 2,95. Devo dire di sì. Wow! Allora... Eh... Spostangi. Ok. Spostangi. Ok. Allora, abbiamo... Mi serve un fungo. Perfetto, bel lancio. Grazie, grazie. Fungo. Ok. Sì, 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 sì. Con le fionde. Un carne. E un carne. Questo lo metto qua. Questo lo piazzo qua. Salgo sopra. Sposto. Sposto. Sei già pronta? Non c'è bisogno che stai sopra. No, è che stavo... Mi stavo bene. Vai, 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 vai. Non so se mi spiego. Sì, sì, l'ho capito. Ti stavi vedendo cadere. Allora, un pomodoro. Un fungo. Via. Spostami il pedano. Quando vuoi. Sì. Vado, vado, vado. Yeah. Ok. Poi abbiamo un carne. Un'altra carne. Uno. Due. Un fungo. E mi taglio questi altri due funghi. Uno. E due. Uno. Due. Ah. Ok. Aspetta. Ok, ti sposto il pedano. Non c'è possibile. Perché ti li metti lì? Te li metto qua, no? Quando tu hai la pasta pronta, me lo dici che io te la metto qua. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Non c'è... Dai, sai. Fermali. Quando tu hai la pasta... Quando stai cucinando, me lo dici che io te la metto già qua la pedana. Ok? Sì. Ok. Tu spostami già la mia lì. Ok. Mentre quello si cuoce. Sì è meglio. Boh, boh. Ok. È meglio. Guarda sto piatto. Te. Eh, se sei impastato il piatto. Non sto capendo più niente. Ok. Ok. Cos'è il Civan? Con fungo. Recuperiamo, recuperiamo. Sì, sì, sì. Qua è una passeggiata. Ok. Tac. Quando sei pronto, lo sposto? Subito, perché mi serve la carne a me. Puoi spostarlo, puoi spostarlo. Ok. Aspetta, uff. C'è una carne in scadenza, mi serve un piatto. Ho fatto una cosa criminale, però. È scaduta. È scaduta. È scaduta. Vabbè, coordinati, dai. Mannaggia, mannaggia. Pomodori, pomodori, come dori. Pomidori. Esatto. Minchia, ti stavo spostando. E qua c'è un sacco di piatti da fare. È tempo scaduto. Però 3,30, stiamo migliorando. Stiamo migliorando, sì. Dobbiamo ottimizzare i tempi morti. Oh, un altro micio baobao gatto. Ma quando i miei gatti sono? Scusa. È mondo di gatti. È overgatto. Overgatto. Allora, stavo guidando il mio pezzo. Ok, vai. Via. Allora, mi serve un fungo. Vai. È un pommidoro. Se hai visto qualcosa muoversi, non ero io. Ok, no, 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 che fai col piatto lì? Stai ferma lì. Esatto. Hai visto? Ottimizziamo i tempi. E se mi sposti anche la mia, invece di stare lì ad aspettare. Esatto. Ottimizziamo questo tempo morto, capisci? Via, basta, basta, basta. Mi sei ragione. Via. Mi sei ragione. Pomidoro. Sai che ho sbagliato, devo fare la carne. Via, vai a cuocere. Ok. Se mi serve carne e pomodoro. Pomodoro, pomodoro, pomodoro. No! Maronne. Maronne. Mi sta male, va. Ok. Vai. Oh. Non ci arrivo. Non arrivo. Basta, basta, basta. Allora, carne. Aspetta che ti sposto la tua, così vai avanti. Fungo. La mia non la sposti, io non posso far nulla. Vabbè, lasciala lì oramai, consegno un pomodoro. Basta, 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 basta. Eh. No. Vabbè. Faccio finta di non aver visto. Sperta. Ah! Che stai facendo? La pasta! Non mi sposte, non c'è. Ah, vuole fare i piatti. Sì. Ok. Stai ferma lì. Ok. Vai, qua. Maronne. Maronne, padre Maronne. Vai, prendi, 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 prendi. E tanti io posso consegnare solamente un pomodoro. Perché l'altra pasta l'ho mai spostato il piatto, quindi... Eh, è colpa mia. E non potevo fare... Non potevo tagliare. Vabbè. Taglio un carne se ce la faccio. Vai. Madonna. Ho capito, vai. Tipo, spostami. Nooo. Non ho capito, ecco. Non ho capito. Vabbè, la carne l'ho salvata. Vai. Posta. Diciamo cosa vuol dire vai. Su Side of Tendencies, proprio morite, morite. Aiuto. Uno. No. Vai, vai, via. Eh, peccato, peccato. 425. Dai, peccato. Però fu, 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 fu. 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 Ok, allora, io ti sposto. Anche io ti sposto. Va, vai. Vai. Ok. Allora, un carne e un pommi d'oro. Ma questo faccio l'arte, l'arte del lancio da chef. Wow. Cioè, il cannavacciolo si mette da parte. Un marò. Ma manca care. Ho visto, ho visto un essere cadere, tipo. Non ero io, Giorno. Puoi spostare, se vuoi. Se no, ma non è per questo. Il tempo ti sposto anch'io. Tac. Ciao. Ciao. Quanto tempo? Vero? Eh, boom. Ok, allora. Prendiamo sta pasta. La pasta. Allora. Allora, un fungo, un fungo. Allora, allora. Io farei anche un carne. Un carne. Esatto. E poi andrei qua. A prendere il fungo. Io adesso ti sposto. Ah, ok. Mi ha presenti il fungo. Tanti c'ho tre padelle, va bene. Verrai spostata anche tu. Ok. C'ho tre padelle cariche, quindi. Allora, consegniamo prima un fungo. Ma ciao! C'è un fungo. Perfetto. Via. Poi. Un pasta. Allora, a me serve carne. Un pasta. Ho sbagliato tasto. Carne. È un pommidoro. Fermo. Te dico, fermati. Un pommidoro. E va bene così. È va bene, va bene. È va bene così. Senza parole. Ok. One. Io sto stasera, sono scema. Sono veramente scema. Buona, 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 buona. Uno. Così tu vuoi avanti. E poi, cosa ci scade? La carne. Ok, prende il fungo, lo mette a cuoce. A cuoce. Pomodori, pomodori, pomodori. Uno. E due. Poi. Boom. È un è andato. E l'altro è andato. E poi questo prendo. Quando vuoi lo rispostiamo. Ok. Anche tu però. Sì. Sì. Hai ragione. Allora, abbiamo un pomodoro. Dov'è il pomodoro? Dov'è? Ah, il fungo. Questo non è ancora cotto, scusami. Va bene. Sì, andiamo qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Va bene, non c'è problema. Prima che si cuoce ve la consigliamo. Perfetto. Sei pronto. E taglio un carne. Sei pronto. Via. Non ci vogliamo mai. Va benissimo. Ti sposto. No, c'hai piatto. Vai, vai, vai. Sì, sì. Ah, peccato. Dai, 438. Vabbiamo fatto. Vabbiamo vinto. Amo vinto. Amo vinto. C'è, va troppo di brutto. Spaccato qua. Tu scè. Tu scè. Tu scè. Tu scè. Tu scè. Come i Ferrero Routouché. Cosa stai dicendo? No. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?